Lorenzo Longarini è un fanese, ama il verde ed è un professionista del verde e degli alberi. È uno dei pochi italiani esperti del settore, appena 300 in tutta Italia, con una speciale certificazione internazionale data dal Consiglio Europeo per l'arboricoltura e vorrebbe per i nostri alberi un approccio un po' diverso. Senza continuare magari ad alimentare la polemica, semplicemente che gli interventi di potatura, e lo metto tra virgolette perché non si tratta di potatura, ma di un'altra cosa, che Aset ha fatto, ma sono sbagliati ed è provato scientificamente da un sacco di istituti di ricerca e di formazione e divulgazione sull'albero a livello anche nazionale e internazionale. Quindi è solo per veramente chiudere e dire che la verità scientifica è un'altra sugli alberi. Non si opera in questo modo qui, perché questo tipo di interventi deprime l'albero da ogni punto di vista, sia estetico che funzionale, che economico per tutta la cittadinanza. Diciamo che è un discorso più che altro culturale, oltre che pratico. Ci vorrebbe una cultura diversa di approccio all'albero e al verde pubblico? Assolutamente sì, perché l'albero, anche se adesso sembrano degli appendi abiti, però l'albero è un essere vivente ed è estremamente complesso. In realtà si parla di sistema, ma non solo di albero, ma di sistema a livello urbano, di verde urbano. Andrebbe cambiato l'approccio dal punto di vista culturale, perché è chiaro che le cose non si cambiano dall'oggi al domani, ci vuole tempo, perché poi gli alberi danno le risposte in tempi lunghi, che bypassano 5-10 anni, sono tempi molto più lunghi. Gli alberi non sono pericolosi. Sono pericolosi i cattivi interventi, i cattivi progetti di gestione degli alberi o di progettazione del verde urbano. Questo tipo di interventi non deprime solo l'albero, ma deprime anche noi operatori che cerchiamo di alzare un po' il livello della qualità. Mi viene da usare un attimo questo spazio per proporre, per chiedere, non quanto una mia collaborazione, ma un tavolo tecnico, l'istituzione di un tavolo tecnico dove Aset, il Comune, qui con l'Ufficio del Verde, per poter guardare veramente lontano e far diventare Fano una città che possa pregiarsi di un verde pubblico ben fatto, che va a vantaggio di tutti.